Dante avrebbe scritto la Divina Commedia se non fosse stato mandato in esilio? Probabilmente no, avrebbe continuato a fare il politico come aveva fatto prima di essere mandato in esilio. Quando è stato mandato in esilio lui lavora a quest'opera e il mondo, l'umanità è felice della disgrazia avuta da Dante perché grazie a questa disgrazia tutto il mondo ha potuto beneficiare, ha potuto avere la Divina Commedia a cui Dante lavorerà durante il periodo del suo esilio da Firenze e l'esilio di Dante è un dramma personale. viene condannato all'esilio quando non era a Firenze e si trovava a Roma. Lui ha dovuto abbandonare tutto ciò che aveva, i suoi vestiti, i suoi libri, i suoi cavalli, le sue armature, sua moglie, i suoi figli perché se fosse ritornato a Firenze sarebbe stato condannato a morte. Dante, dopo la condanna all'esilio perpetuo, sarà esile in diverse città italiane. Grazie a tutti. Ciao, al prossimo video. Vi aspetto. Ciao, al prossimo video. Ciao, al prossimo video. Ciao, al prossimo video.